Nuove giornate di disagi si annunciano per gli utenti dell'A26, a causa di interventi che vanno a sommarsi a quelli già in atto e che nei giorni scorsi hanno determinato la chiusura, parziale, degli svincoli di Gravellona e di Verbania. Al contrario delle precedenti, questa volta le ordinanze sono state trasmesse ai comuni e alla provincia del VCO nei giusti tempi, tali almeno da poter avvisare con anticipo i fruitori dell'autostrada. Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.